Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Quello che invece sapete bene è che tra cartine geografiche e audizioni vi attende una lunga notte di studio. Brasile, Guiana, Francese, Suriname, Guiana. Ognuno ha il suo metodo per memorizzare. Dimmi la mano! Schiera però, me la faccio male. Adesso chiudi gli occhi. Sto volando Jack! Sto volando Jack! Ti fidi di me? Mi fida di te. E quando si spengono le luci, c'è chi per imparare meglio la parte entra forse un po' troppo nel ruolo di Jack. Ci conosciamo da poco e lui subito prova a baciarmi tutto. Lui si pensa che subito te, invece io non sono così. Però, vabbè, lo vedremo nei prossimi giorni. Voi fate il reno? E mi f***o dai. Cioè? Sì, sicuro. Un nuovo giorno illumina il Collegio San Francesco di Lodi. E i collegiali, avendo perso le sveglie per il ritardo del giorno precedente, dovranno fare i conti con una nuova modalità di risveglio. Buongiorno! Il mondo non è di chi si alza presto, ma di chi si alza felice. Buongiorno! Questo risveglio è traumatico. Su, 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 su! Sveglia! Sveglia! Peggio di mia madre, ma veramente peggio. Ho detto sveglia! C***o di mattina, le sette mattina, l'otto di mattina, ma deve essere proprio fulminata, cioè, ma il reparto psichiatrico qui non è nulla, è proprio un manicomio. No, veramente. Sveglia!